Renzi contro Letta, tutte invenzioni, almeno a sentire quello che sostengono, i diretti interessati. All'ora del tè da Londra il Premier dice la sua non vedo nessun problema con il partito, smentisce il retroscena dei giornali sul presunto litigio telefonico tra il Premier e Matteo Renzi. Da qualche ora le redazioni dei giornali sono invase da agenzie di stampa parlamentare del PDL e di qualche statista del PD che continuano a spiegare come la mozione di sfiducia contro Alfano, presentata dai 5 Stelle e Selli in Senato, sia una mossa del perfido Renzi per pugnalare il governo, secondo la linea autorevolmente indicata stamattina dal quotidiano Il Giornale. Sono dichiarazioni fotocopia che potrebbero far ridere se non fossero legate a una vicenda triste, scrive Matteo Renzi su internet. Tentativo di chiudere un caso che in realtà rischia di mettere alla prova il governo ma anche e soprattutto il PD, ancora una volta diviso appunto tra chi sta con Renzi e chi contro. Ma cosa ha fatto questa volta il sindaco di Firenze per rilanciare lo scontro? Ieri ha chiesto a Letta di dire in Parlamento se davvero Alfano lo ha convinto sul caso Scialabaieva. Una pugnalata al cuore del governo la lettura degli avversari di Renzi interni al PD, pugnalata, rigirata, nella ferita dalla nota scritta oggi dai senatori renziani tutti e 13 a ribadire la richiesta di dimissioni del ministro dell'interno. Il precedente della IDEM le rende scontate l'affondo, seguono firme compresa quella del vice capogruppo democratico a Palazzo Madama Stefano Lepri. Per i suoi detrattori insomma Renzi starebbe usando il caso Scialabaieva nella lunga partita congressuale. Venerdì al Senato si vota la mozione di sfiducia ad Alfano, votazione palese emergeranno i numeri. Ma se il governo non sembra rischiare anche la Lega, che pur ha presentato la prima interrogazione in Parlamento sull'espulsione di moglie e figlia del dissidente Cazzaco, ha annunciato il suo voto contrario alle dimissioni di Alfano, il PD invece potrebbe trovarsi di fronte all'evidenza di un partito pro-governo con una bella fetta però che vota insieme all'opposizione. In questo senso l'obiettivo del ministro Franceschini sembra quello di prendere tempo per calmare le acque. Domani all'ora di pranzo è prevista la riunione dei senatori democratici, il capogruppo Zanda, grande conoscitore della macchina del ministero dell'interno, figlio di un ex capo della polizia e soprattutto portavoce di Cossiga al ministero negli alnicaldi del terrorismo, avrà il complicato compito di mediare. Alcuni senatori non renziani sembrano infatti condividere la linea dura ed addirittura Anna Finocchiaro come il candidato alla segreteria Cuperlo oggi hanno chiesto ad Alfano di fare un passo indietro come atto di responsabilità prima del voto in Senato, posizione che è anche quella del segretario Epifani che l'ha portata oggi in segreteria del partito. Tirare a campare non fa bene al paese per Epifani che ha messo in campo anche eletta tra i futuri candidati premier del PD, un messaggio al PDL ma anche a erenziani appunto in vista del congresso.